AS Martino Immobiliare SRL, specializzata nella sola costruzione e vendita di immobili. È in grado di supportare qualsiasi tipologia di lavorazione in cantiere. Vi dà la possibilità di essere affiancati durante ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione del progetto, dalla scelta dei materiali fino all'esecuzione. Prossima realizzazione a Sant'Arpino, Caserta. AS Martino Immobiliare SRL. Per contatti info-asmartinoimmobiliare.com Telefono 081 015 4277 o 081 976 4171